Il mondo dei giovani sperimenta contraddizione e le potenzialità del nostro tempo. Soffrendo la pressione della società dei nostri giorni, una società di consumi, non diranno i giovani sono all'opposizione, contestano, ma nello stesso tempo sono fragili e incostanti, incapaci di dare un senso al proprio essere, al proprio avvenire. Prigionieri di tutto e subito e se questo non si attualizza sono anche capaci di borbottare, criticare o mettersi in opposizione con gli stessi genitori. Anche dal punto di vista cristiano bisogna impegnarsi ad assistere coloro che sono deboli e non hanno la capacità di riprendere un cammino spirituale. La formazione dei giovani deve partire dai doveri che ad essi sono più consoni, sono più appetibili e così allora il problema della pace, il dialogo, l'amore per la natura, l'autenticità, la solidarietà, ecco sono tutti i termini che sui giovani fanno molta presa, però anche in questo è necessario non lasciarli soli, hanno bisogno di incoraggionamento continuo, hanno bisogno che l'adulto stia insieme a loro e se è necessario che sentano che l'adulto viene a supplire anche la deficienza della famiglia che è una chiesa domestica. La posizione dei giovani facilmente decade perché il giovane facilmente si stanca e viene affascinato da un modo di vivere molto più immediato, molto più comodo e quindi poi rimangono disorientati. La parola di Dio deve fare da maestro. L'Evangelista Marco parlando della chiamata degli apostoli ci riferisce che Gesù li convocò perché stessero con Lughi, ecco non è che li mantò soltanto, li convocò perché stessero con Lughi e li mantò perché portassero la nuova novella della pace, della serenità, della gioia e di una sofferenza redentrice. Tutto ciò non si può fare senza di Lui o contro di Lui. Solo se ci uniamo alla parola di Dio, solo se ci uniamo a Cristo Gesù, saremo capaci anche di seguire passo passo quello che Gesù ha fatto. E ciò avviene per tutti i cristiani, quindi anche per i giovani che vivono e vogliono essere protagonisti e responsabili della evangelizzazione. Alcune piste per la formazione dei giovani perché il discorso è bello, è piacevole, giovani fattivi, dinamici, però sono giovani e quindi hanno bisogno della formazione. Quali sono gli elementi della formazione? La vita interiore, cioè la vita dell'anima, non è soltanto il corpo che deve svilupparsi intellettualmente e fisicamente, non è solo questo, è anche il cuore, anche l'intelligenza purificata dalla parola di Dio, è la vita interiore e quindi la meditazione, la liturgia, la revisione di vita, i ritiri spirituali. Francesco d'Assisi si dedicò all'apostolato passo passo per le varie zone, i vari luoghi. Padre Pio invece rimase chiuso nel convento. Tutte e due ebbero un unico scopo, salvare se stessi e salvare i propri fratelli.